in questo secondo video vediamo come effettuare la stessa operazione che abbiamo fatto nella prima parte con MaximiDL utilizzeremo le stesse immagini con un altro programma che è SharkUp nella versione PRO perché utilizzeremo una funzione che è solamente a pagamento. Ho già aperto la cartella contenente le tre immagini che vogliamo elaborare sommandole tra loro e quindi apro SharkUp. SharkUp mi dà la possibilità nelle fotocamere oltre che aprire una fotocamera reale di aprire una fotocamera virtuale simulando una cartella del computer contenente delle immagini. Selezionando questa funzione dovrò indicare a SharkUp qual è la cartella che contiene le immagini e quindi SharkUp le elaborerà. Quindi apriamo il folder image e questa è la cartella che noi vogliamo utilizzare. Questa è la prima immagine. Utilizzeremo tutte le immagini contenute in questa cartella. Abbiamo tre immagini. Questa è la numero 1 e la numero 2 che sarà successiva. Dobbiamo regolare un po' i corsori per riuscire a vedere meglio facendo uno stretch automatico. Ho impostato la dimensione del video al 33% per vedere l'immagine completa e non dove scorrere su e giù anche se poi la vedremo meglio al 100%. Quindi qui abbiamo le tre galassie evidenti. Questa è con la freccia andiamo alla anzi a questa andiamo avanti di un frame quindi andiamo all'immagine numero 2 presente nella cartella e questa è l'immagine numero 3. Perfetto. Quindi qui torniamo indietro all'immagine numero 2 e questa è la nostra immagine numero 1. A questo punto noi attacchiamo con la funzione live stack che sommerà le immagini man mano che arrivano anziché dalla telecamera dalla cartella. Quindi apriamo il live stack, questo momento è vuoto e quindi premiamo questo pulsante per elaborare tutte le immagini contenute nella cartella che abbiamo selezionato prima. Qui sulla sinistra vedremo il numero delle frame aumentare e poi dovremo regolare i corsori in questa parte. Prima di cominciare è a resetto lo stretch della mini finestra a destra facendo un reset di questo stretch. Quindi partiamo con le immagini facciamo l'avanzamento di tutte e tre. Questa è la numero 1, questa è la numero 2 e questa la numero... ricominciamo, glielo facciamo ripetere e quindi abbiamo sommato le tre immagini. Eccolo qua. Quindi clicco su zoom sull'asse delle X per avere un po' più di spazio di lavoro. Quindi abbasso un po' la luminosità e aumento un po' lo stretch per divinirlo migliorare. Posso selezionare anche il mini histogramma per avere la possibilità di avere un micro controllo sullo stretch. Ecco qua. Questa più o meno è l'immagine che noi possiamo ottenere sfruttando shark up per sommare le tre immagini risultanti. Possiamo salvare questa immagine e ce la salverà dentro la cartella cuserscarlo desktop che è quella che ho definito, anzi che non ho definito dentro il menu file impostazioni di shark up. Nomi di file. Quindi dovrei cambiare questa cartella. Quindi selezionerò la cartella che ho già aperto sotto. Quindi clicco sul nome del percorso e lo copio. Andrò qua a cercare. Qui incollerò il nome del percorso. E quindi seleziono questa cartella come cartella di lavoro. Do l'ok. Quindi a questo punto facendo il salva, mi salverà in questa cartella l'immagine che vediamo sullo schermo. Salvo con gli aggiustamenti. Quindi è stata salvata e qua adesso ci troveremo Nella cartella Non l'ha fatto. Va bene. Ci troviamo nella cartella processed Ci troviamo l'immagine appena realizzata che è questa. Eccola qua. Una cosa interessante di shark up è che ha un motore di ricerca automatico delle stelle. Nel menu tools Possiamo eseguire un plate solving utilizzando il motore interno di shark up. Il plate solving significa che risolve questo plate, questa piastra, questa fotografia Andando a riconoscere la posizione delle stelle che sono state inquadrate E quindi determinando i nomi degli oggetti che sono presenti nell'immagine. È molto potente e lo fa in automatico. Ha già fatto, ha riscontrato qual è il centro dell'immagine Quanto è il campo inquadrato in gradi Com'è la direzione del telescopio In che direzione è appuntata E qual è la focale del telescopio che stiamo utilizzando Che è 616,8 A questo punto Una volta fatto il plate solving Quindi avendo capito cosa sta appuntando Shark up con la funzione annotazione dell'immagine deep sky È in grado di evidenziare Gli oggetti deep sky che sono presenti nell'immagine La visualizzazione può essere più o meno veloce Dipende da quanti cataloghi sono stati caricati dentro Shark up In questo momento io ne ho caricati molti Che sono questi Quindi abbiamo questi cataloghi Con tanti mila oggetti Quindi questo è legato alla mia necessità Quindi qui vediamo che nell'immagine sono evidenziati gli oggetti Stelle, oggetti deep sky come galassie E riconosce a massi aperte, a massi globulari eccetera Tra cui per esempio anche stelle doppie Per cui se io adesso evidenziamo Esattamente qua Negli oggetti in vista Qui abbiamo i C2710 con la stella doppia Quindi ci sta indicando che anche se non riusciamo a vederla bene A causa del basso ingrandimento Ommettiamo lo zoom Nel 66% Torniamo qua Cominciamo a vederla Andiamo al 100% Eccola qua Chiudiamo lo strumento E quindi qua riusciamo a vedere le due stelle Eccola qua Le due doppie Cosa che era difficile da riconoscere a occhio A meno di non sapere cosa stavamo guardando Va bene Quindi abbiamo finito questa seconda parte Dell'elaborazione con Shark up Quindi chiaramente Indipendentemente da quante sono le fotografie salvate in una cartella Shark up Ne farà la somma Simulando la funzione di live stacking di notte Possiamo farla anche di giorno E questa è una funzione molto importante Anche per prendere confidenza con il programma Perché è abbastanza complesso Bene Vi ringrazio e ci vediamo per la prossima puntata Grazie a tutti